Alessia Giuffra Sono Alessia Giuffra, ho 27 anni, sono nata a Santa Margherita Ligure, ma vivo nell'entroterra. Gioco dall'età di 6 anni, ho iniziato a giocare con i maschietti perché non c'erano squadre femminili 20 anni fa. Quest'anno ricopro il ruolo di mezzala, mezzala destra in particolare. È il mio primo anno al Genoa, sinceramente non mi aspettavo la chiamata da parte della società perché comunque ho un'età molto diversa dalle altre ragazze, con alcune ho addirittura 10 anni di differenza, 11. Il progetto che mi hanno descritto è un progetto importante, di sicuro non basato su quest'anno solamente. Avremo bisogno di tempo ovviamente per ottenere dei risultati. Contro l'Alessandria abbiamo pareggiato 2-2 e ho fatto il mio primo gol di quest'anno, di questa stagione. Mi ha fatto piacere sia a livello personale sia soprattutto per la squadra perché era importante ottenere finalmente i primi punti in questo campionato. Mi alzo la mattina verso le 6 e mezza, vado a lavoro e per adesso svolgo un lavoro part time che mi permette di potermi allenare al pomeriggio. Poi pranzo al volo, diciamo anche a volte in macchina se capita e poi vengo direttamente ad allenamento. Dopo allenamento cena presto, letto presto e una vita molto diciamo da atleta tra virgolette. Mi piace cucinare, sto imparando a suonare la chitarra però diciamo che la mia unica passione è il calcio da sempre. Ho sempre fatto grandi sacrifici per il calcio sia negli anni scorsi con la scuola, mi sono sempre organizzata per riuscire a fare tutto al meglio. Le ambizioni sono tante, si sogna in grande, se si sogna tanto vale sognare in grande e poi in un futuro non mi dispiacerebbe rimanere comunque nel mondo del calcio. Un'esperienza diversa come allenatrice non si sa mai.